Fonici, trascrittori e stenotipisti sciopereranno giovedì 18 gennaio, lo sciopero è nazionale, perché? Sì, appunto, giovedì 18 ci sarà uno sciopero nazionale di questa categoria dei lavoratori all'interno del Tribunale che però lavorano in appalto e quindi non sono assunti direttamente dal Ministero della Giustizia. Perché scioperiamo il 18? Perché questi lavoratori, soprattutto a seguito della riforma Cartabia, hanno perso ogni certezza rispetto al loro futuro e rispetto soprattutto alle loro mansioni all'interno dell'appalto. Quanti sono i lavoratori di questo settore in provincia di Teramo interessati dalla problematica? Allora, in provincia di Teramo parliamo di una cinquantina di lavoratori, consideriamo che in regione Abruzzo all'incirca siamo un 300 lavoratori e appunto quello che chiediamo è intanto chiarezza rispetto al futuro, cioè che fine faranno a livello occupazionale queste lavoratrici e questi lavoratori ma soprattutto a seguito anche di un'apertura che c'è stata dal Ministero, quello che chiediamo è che queste persone vengano internalizzate all'interno del servizio del Ministero perché sono lavoratrici e lavoratori fondamentali per il servizio. Perché se sciopereranno tutti si fermeranno le udienze? Si fermeranno le udienze e infatti i tribunali sono anche in fibrillazione rispetto a questo proprio perché la loro mansione, la loro figura all'interno delle udienze è fondamentale, senza i fonici l'udienza non può essere fatta è lo stesso per i trascrittori che trascrivono appunto poi le udienze, sono delle figure fondamentali che non possono essere lasciate indietro ma che appunto hanno bisogno di certezze e che quindi vanno considerate e quello che chiediamo è l'internalizzazione.